Dottor Pieralli stanno per riprendere i corsi dell'ASL per smettere di fumare. Intanto per quante persone sono? Dunque noi facciamo con gruppi di circa 20 persone. Qualcuno più, qualcuno meno. Questo è l'ordine di grandezza. Funzionano questi corsi? Sicuramente sì, noi siamo molto contenti. È il tipo di intervento che noi tendiamo a privilegiare e a consigliare perché è quello più efficace. Come si articolano? No, noi facciamo circa otto incontri di un'ora a un'ora e mezzo ciascuno, una volta alla settimana. C'è una prima fase in cui si suggerisce e si aiutano le persone con vari consigli e tecniche cognitivo-comportamentali a ridurre il numero dei sigaretti, si aiutano ad arrivare a sospendere e poi si aiutano a non riprendere. Un corso basta? È una buona domanda e spesso sì. A volte qualcuno dopo un po' di tempo ricomincia a sfumare. Oggi i nostri ambulatori sarebbero fortunatamente simideserti. Quest'esame si chiama spirometria? Inizia il primo giovedì di maggio e per iscriversi abbiamo ancora alcuni posti disponibili. Basta chiamare il centralino dell'ASL, chiedere del servizio per le dipendenze e chiedere del corso. Basta chiamare il nostro corso.